Fano dice addio ad uno dei sacerdoti più amati della città. È morto all'età di 92 anni Don Gabriele Belacchi, storico parroco della chiesa Gran Madre di Dio nel quartiere San Lazzaro. L'anziano sacerdote è tornato alla casa del padre poco dopo la mezzanotte di oggi all'ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per una emorragia interna. Era in coma e da allora non si è più ripreso. Don Gabriele a giugno avrebbe festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Stimato da tutti, molto apprezzate le sue brevi ma profonde omelie domenicali, lascia un grande vuoto in tantissime persone che lo hanno conosciuto anche tra i non credenti. Uomo sportivo, amava la montagna, praticamente le dolomiti erano la sua seconda casa e le alte vette. Famoso per essere un audace alpinista, praticava le rampicate come un vero professionista. Spesso lo si vedeva girare per la città in sella la sua bicicletta, raramente in automobile. Magro e alto di statura, Don Gabriele era l'immagine della salute, dal mangiare bene e del vivere sano. Durante la sua lunga attività di parroco a San Lazzaro ha accompagnato centinaia di giovani dall'età adolescenziale sino a quella adulta. Nel 1955, quando era ancora giovane parroco, fondò l'Unione Sportiva Adriatica, realizzando un campo da calcio in un'area incolta dietro la parrocchia. Due decenni più tardi toccò poi alla pallavolo che, insieme ad alcuni amici, fece partire e praticare a tantissimi giovani del quartiere, realizzando anche ottimi risultati. Amante dei viaggi e del Medio Oriente, l'ultimo pellegrinaggio, prima di ammalarsi un mese fa, lo fece in Iran, in compagnia di un gruppo nel quale c'era anche il professor Peris Persi, suo amico. Era nato a San Costanzo, il giorno di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, il 22 novembre del 1927. Da quando aveva lasciato l'incarico di parroco, per raggiunti limiti di età, circa 12 anni fa, era diventato cappellano alle carmelitane scalze di Santa Teresa. In poche parole, questo è stato il Donga, così veniva chiamato dai suoi atleti e dai suoi ragazzi. Un uomo che ha saputo gestire una comunità in fortissima espansione, sia come uomo che come pastore. Ci mancherà Don Gabriele, mancherà a molti, perché quel genere di prete che piace così tanto alla gente è sempre più difficile da trovare. La salma sarà esposta nell'obitorio del Santa Croce a partire da oggi pomeriggio, mentre lunedì mattina dalle nove sarà a disposizione dei fedeli nella Chiesa Gran Madre di Dio, la sua parrocchia, la sua chiesa, dove alle 15 di lunedì 13 gennaio il Vescovo Armando celebrerà il rito funebre.